In quale mare armonico deve nuotare? Se è un mare agitato o un mare calmo? Trova un accampamento di nativi americani su una curva, un'ansa del fiume e lo shuffle è più pesante Perché non si deve mai dal mio punto di vista mettere in discussione, non si devono mai mettere in discussione i mezzi Piuttosto si discute sul risultato Grazie a tutti Live! Eccoci! Buongiorno ragazzi! Puntata numero 3 di Masterclass Esatto, allora benvenuti al nostro terzo appuntamento con Guitar Coach Podcast Masterclass Quest'oggi il nostro coach è Michi Bianco Sì ma il boss è sempre il boss Io mi limiterò a fargli delle domande Allora visto che sono le prime puntate precisiamo che i primi incontri riguardano il libro Bravo! Facciamo vedere C-S-S-S-M Corsi di Chitarra Elettrica Corsi di Scuola Superiore di Musica C-S-S-M vuol dire questo Che sono i libri utilizzati, sono i libri di testo ufficiali utilizzati in tutti i circuiti Lizard Academy Ma ovviamente li può utilizzare chiunque, sono in vendita Ma utilizzati devo dire con piacere anche in molte molte altre accademie scelti dagli insegnanti E quindi abbiamo pensato di fare dei podcast di approfondimento sul materiale presente in questi libri Cominciamo col volume 1 naturalmente e poi penseremo al volume 2 Sì, a questo proposito infatti volevo dire Noi avevamo in passato detto che facevamo le risposte video risposta apposta Però già io anticipo oggi che qualcuno mi chiedeva gli spartiti, è possibile avere gli spartiti Ragazzi gli spartiti sono nel libro Quindi noi facciamo Certo, non possiamo ovviamente per motivi di copyright se non ci arrestano Anzi ci arrestiamo da soli Cioè se volete seguire questo podcast E andare oltre a quello che diciamo E ovviamente dovete procurarvi il libro Ma poi anche per partecipare ai contest e a tutte le iniziative Oltre che utilizzare in modo attivo le cose che vi spieghiamo in questi incontri Diversamente gli incontri naturalmente parlano di brani, parlano di musica, di chitarra, di tecniche E semplicemente abbiamo scelto di suonare i brani che abbiamo scritto E di spiegarli e di renderli ancora più fruibili Va bene, io direi di iniziare Allora in questo terzo appuntamento trattiamo un brano scritto da Miki Che si intitola Rivière du Détroit E nel caso specifico oggi parleremo della ritmica, dell'accompagnamento Esatto Partiremo sempre in ogni cosa che spiegheremo Ove possibile partiremo sempre dall'aspetto armonico Quindi quello che riguarda l'accompagnamento, la ritmica Ricordiamoci che la chitarra è intanto uno strumento armonico Che dovrebbe servire per accompagnare Anche se poi è diventato famoso come strumento melodico Per esprimere la propria voce interiore Quindi come strumento melodico E poi ci teniamo a precisare che è sempre bene e fondamentale Prima di suonare una melodia capire in quale mare armonico deve nuotare Se è un mare agitato o un mare calmo Va bene Allora Miki, intanto abbiamo sentito il brano La parte ritmica del brano nel video precedente L'analizziamo Cerchiamo di parlarne Intanto l'elemento principale credo sia quello dell'accompagnamento del blues tradizionale Infatti la prima cosa da dire Parlando di accompagnamento Innanzitutto la prima cosa da dire è che si tratta di uno studio Incentrato sul blues Dove normalmente quando si parla Nel gergo così abituale Quando parliamo e usiamo la parola blues Nel nostro immaginario scatta subito un genere musicale Nella musica, nel mondo della musica a livello tecnico Certo il blues è un genere musicale Ma ha anche un altro significato Quindi è una parola, come si dice, polisemantica E vuol dire che è una struttura di dodici battute Quindi nell'ambito di quelle che sono le strutture armoniche Quando si parla di blues Si sottintende una struttura a dodici Dodici bar, dodici battute Dove le dodici battute però sono organizzate sempre con chorus di quattro battute Tre chorus di quattro battute Dove il primo chorus di chiamata Il secondo chorus di risposta E il terzo chorus è il chorus di chiusura Il turn around Che di solito nella musica tradizionale Negli spiritual Voi immaginate Erano negne, no? Canti di lavoro Noi in Italia abbiamo gli stornelli Che sono strutture ripetitive, no? E servono Cosa servono? Servono perché Intanto Chiunque può partecipare al canto Immediatamente Perché è una struttura È un cliché E quindi le negne sono Le troviamo Uguali Identiche In Sicilia In Calabria In Veneto In Lazio E quindi cosa cambiano? I dialetti Però le linee melodiche Le strutture armoniche Sono identiche Forse l'unica eccezione Nella musica popolare italiana È la musica sarda Che ha una formula armonica E una struttura completamente diversa Però nel resto d'Italia Questa cosa è È un cliché E lo troviamo anche in tutta Europa Nella musica americana Tradizionale americana Il blues È un po' questo E sono Le Io dico le nennie Perché sono questi pattern ripetitivi Sempre uguali Che si ripetono E sono ciclici E di solito sono Questi Questi Canti Originalmente erano dei canti Servivano per Data la ripetitività A sopportare meglio Il lavoro La fatica Infatti è comune Appunto Nel mondo Dei contadini Nel mondo Come dire Buccolico E questa cosa qui È accomunata anche Nel mondo militare Perché Le stesse cose riguardano Un po' le marce militari Che sono delle nennie Oppure All'osteria Quando Finito di lavorare Si canta tutti insieme E anche se tu non conosci il brano Lo senti due volte E poi sei in grado Di partecipare immediatamente Perché tanto L'anima melodica È uguale a miliardi Di altri brani E le parole A volte le parole Poi erano anche improvvisate Perché raccontavano Poi le esperienze Della quotidianità Infatti Nel blues C'è proprio questa Particolarità Vabbè Per farla breve Adesso tagliamo corto E Perché non voglio fare una Conferenza Su più Però è un argomento Appassionante Interessante Sono sicuro che Divertente Una parte Di chi ci sta ascoltando Scoprirà delle cose nuove Eventualmente Da approfondire Sì sì Certo Allora intanto Vabbè Il titolo è una Chicca Non ha particolarità Riviere du Detro Perché intanto Questo è un Detroit blues Nel blues americano Ci sono soprattutto Nell'urban blues O blues elettrico Quindi tutto quello Che non è più Il blues Agreste Acustico E rurale E quando diventa Elettrico È suonato Con strumenti elettrici Chitarre elettriche E così via Quindi Da Buddy Guy In poi C'è questa migrazione Dal mississipi E dal sud Degli stati uniti Alle città Industrializzate Le città del nord E in particolare Le città dei laghi Le città dei laghi Tra cui Chicago Che è tra le più famose Infatti il Chicago blues È proprio Uno stile Rappresenta uno stile Ben preciso Ed è Avuto proprio Un'influenza Pazzesca Anche su quello Che poi sarà Diventerà Il British blues Il rock blues Degli anni sessanta La blues revolution Ma anche Le altre città Come ad esempio Detroit Vengono fuori Con delle particolarità E ogni città Appunto queste città Dei laghi Memphis E così via Caratterizzano Lo stile Di blues Per delle peculiarità A volte Per la maggior parte Le volte È più Una caratterizzazione O di styling ritmico O di Velocità dei brani O tipo di shuffle E in qualche altro caso Invece proprio a livello strutturale E a livello armonico Per esempio nel caso Del New Orleans blues Che ha proprio delle forme Di struttura E giri armonici Completamente Non completamente Ma Molto differenti Rispetto Alla forma standard Questo qui Che andiamo a vedere Che è Riviere du Detroit Titolo francese Perché La città di Detroit Viene scoperta Da dei francesi Che trova Un accampamento Di nativi americani Su Una curva Un'ansa Del fiume Che attraversa Questa Questo villaggio E questa Da questo accampamento Che poi nasce Da lì nasce La città E viene fondata La città di Detroit Il nome Richiama appunto La curva Del fiume Dove in francese La riviere De Detroit E allora ho detto Beh lo chiamiamo così Il Detroit blues Che cosa caratterizza La città Il blues di Detroit Intanto che Detroit è famosa Perché tra le città Americane Ha un tipo di industria Legata al mondo Dell'automobile E quindi La musica blues Il blues Rispecchia Le sonorità Dei rumori Delle fabbriche Dei motori Delle macchine E quindi Quello che nel Chicago blues Normalmente suona Pacato e morbido Tipo Questo groove Tipicamente Chicago style Nel Detroit blues Nel blues di Detroit A parte le ballad I medium Sono sempre Dei tempi Che Un pochettino Più accelerati E lo shuffle E' più pesante Infatti questo riff Che poi è già contaminato Perché è già Rock blues Però si può sentire Un po' Il Non tanto Il suon Il sound Della locomotina Vapore Tipica del Chicago blues O del Mississippi blues Ma più proprio quello Dei motori Delle automobili E questa è una cosa Altra anche curiosa Perché si vede come Questi elementi vanno A caratterizzare Lo stile E invece la struttura E standard 12 battute Quindi Da questa unità didattica Perché nel nostro libro Abbiamo suddiviso tutto Il capitolo 1 In unità didattiche Esatto Iniziate già a capire Cosa vuol dire Unità didattica E questa è la cosa importante Per gli allievi E per gli insegnanti Che lo utilizzano Cioè Come è successo già Con Shining Blade Nelle puntate precedenti Avete già intuito Che da un brano Ci si collega Non ci si limita Solo a imitarlo A suonarlo Così come è scritto Ascoltarlo E riprodurlo Quasi in maniera meccanica Esatto Ma da quella lezione Nascono tanti argomenti Tony la volta scorsa Vi ha parlato Delle posizioni Con le corde aperte Vi ha parlato Per esempio Nel riff Dei power cord aperti E sono argomenti collegati A quello studio In questo studio qui Gli argomenti Per la parte Quanto riguarda La parte ritmica Sono L'elemento L'elemento dello shuffle Abbastanza stretto Quindi l'elemento ritmico Esatto Intanto Lo shuffle Portamento Della ritmica Il giro armonico Cioè la struttura Esatto Facciamo una cosa Miki Fai sentire La differenza C'è sempre questo Soprattutto fra i più giovani Questo dubbio Shuffle Straight Dritto Si Sentiamo come suona Lo stesso riff Se io suono questo pattern Per esempio In modo straight Quindi dritto Di 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 Invece Dove il groove non è più A ottavi Ma Usiamo la suddivisione a terzine E le prime due crome della terzina le leghiamo insieme E la terza invece è staccata Quindi questo Diventa Esatto E non più Esatto Ok Quindi questa è un po' la differenza Così intanto lo diciamo Lo ribadiremo Però sono quelle cose Che diamo A volte per scontato Molti insegnanti danno per scontato invece ai ragazzi bisogna spiegare qual è la differenza anche perché sono i due portamenti esatto fondamentali poi sia del playing solistico che di quello ritmico esatto quindi è bene approfondire sempre la differenza e quale miglior modo che farla sentire ecco qua per esempio la curiosità anche questa no che se io tengo uno shuffle un chicago shuffle sulla corda vuoto no e lo pronuncio così sentite com'è più stretto e più certo no e portato con un'intenzione diversa quasi quasi al limite del non più della terzina ma della croma puntato sedicesimo e queste sono le differenze di intenzione ritmiche poi anche nei vari stili di blues no e nello shuffle nel detroit nello stile di detroit abbiamo sempre un andamento terzinato ma con le note più staccate meno legate tra di loro e quindi un po più nervoso esatto faccela sentire qui il groove è questo avete sentito prima perché lo mandiamo il filmato sempre all'inizio sentite come anche la mano e il braccio li utilizzo non in modo leggero o come dire legato ma sono molto più nervoso anche la nota in anticipo è quasi rubata no e a quel punto il groove suona un po' più avanti un po' più io dico un po' più ansioso un po' più nevrotico è perché appunto è più rumoroso e più esatto descrive rumori dei motori delle della città dei rumori della meccanica esatto esatto e il giro armonico è invece la classica struttura 12 battute dove non abbiamo le variazioni su un genere quindi la forma a 12 battute cosiddetta standard dove le prime quattro battute vedono un accordo l'accordo che dà la tonalità del blues quindi il primo grado per una giornata di quattro battute in questo caso sottintendiamo un mi settima poi abbiamo il secondo corso di quattro battute che ha due battute sul quarto grado quindi la settima e due battute di nuovo sul primo il terzo chorus abbiamo il famoso turn around quindi abbiamo il quinto grado quindi dal si settima quarto grado una battuta quindi la settima primo grado mi settima e poi il vero e proprio turn around sul quinto cioè si settima per chiudere dare il senso di chiusura del giro e ritornare poi dall'inizio e questo è un loop da cui non si esce proprio e abbiamo l'effetto nenia cioè della ripetitività della ciclicità esatto che poi è uno dei giri che si assimilano inconsciamente da subito in realtà poi la il nome proprio di questo di questa tipologia di successione armonica è turn around esatto che tratteremo sicuramente nei in uno dei prossimi podcast in cui parleremo in maniera più approfondita dei giri armonici per quanto riguarda il riff invece come ti sei comportato per sfruttare il più possibile il riff stesso allora infatti questo tipo di accompagnamento invece di sfruttare gli accordi o i power chords sfrutta un'idea di un riff che è appunto questa questo pattern come se fosse proprio un vero e proprio pattern di quattro battute poi lo trasporto sui bassi degli accordi che generano poi gli accordi del giro armonico quindi il groove successivo va sull'accordo del la quindi avrò lo stesso riff che modula sul la ma sfruttando le corde a vuoto questa posizione che utilizzo sul mi dove suonano l'ottava e la settima minore la trasporto una corda sotto quindi corda del la a vuoto e corda del re per gestire lo stesso riff quindi mantenendo il stesso tiro stessa sonorità esatto e stessa posizione della mano destra e della mano sinistra quando vai sul quinto grado invece non posso più utilizzare le corde a vuoto allora il pattern lo adatto sulla posizione diciamo che possiamo visualizzare la forma intorno all'ipotetico accordo di si settima in forma di mi quindi questa posizione qui dove abbiamo la fondamentale al basso l'ottava e la settima minore stessa cosa la mantengo anche sulla anche se potevo utilizzare le corde a vuoto ma per mantenere una coerenza anche di sound perché non ho più le corde e la risonanza delle corde a vuoto una maggior facilità interpretativa esatto più fluido nel cambio quindi si adatta la posizione per renderla più vicina a quella nuova che ha utilizzato che è stato costretto ad utilizzare sull'accordo del si settima e questa è la scelta intelligente che bisognerebbe fare sia dal punto di vista del sound per non passare da una cosa all'altra sia dal punto di vista della praticità di esecuzione bisogna imparare ecco perché questa scelta ma anche questi poi mi viene da dire che sono dei cliché stilistici nel senso che se noi sconfiniamo e andiamo a analizzare il blues cioè la struttura 12 battute con questi cliché armonici ma nel mondo jazzistico ad esempio si fa il contrario cioè si cerca sempre di cambiare voicing e arrangiare diversamente ma perché il ruolo dello strumento armonico è completamente differente in quello stile rispetto al mondo del blues e del rock blues dove la chitarra ma anche gli altri strumenti lavorano in maniera più incisiva e ossessiva nella parte ritmica e le variazioni sono minimali invece in ambito jazzistico si cerca una grande varietà armonica non si utilizzano più di tanto i riff se non qualche raro caso poi magari facciamo un cenno proprio sul significato di ho notato anche che quando cambi posizione per ottenere lo stesso riff tendi più a utilizzare delle ghost note di richiamo mentre prima sui riff con le corde a vuoto enfatizzi di più le note no è interessante questa cosa perché in realtà onestamente io continuo a sentire la nota esatto come si dice quello che non suoniamo ce lo suona l'orecchio lo suggeriamo esatto e suggeriamo in realtà vedi toni ha detto proprio ha individuato una delle cose più particolari perché se noi analizziamo leggiamo la parte così come scritta in realtà non è scritta esattamente come la suono ma non si può scrivere esatto esattamente come la suono perché nel playing c'è l'intenzione ma anche nel riff portante ci sono comunque i rumori intorno alle note quando vado sulla posizione del sì questa cosa ancora più evidente questo questi appoggi queste piccole ghost che servono di portamento esatto quindi attorno a ciò che in realtà scriviamo noi possiamo scrivere le note e possiamo naturalmente trascrivere la divisione ritmica l'intenzione molto complicata da trascrivere se non impossibile ecco perché invitiamo tutti a utilizzare la partitura quasi come per rendersi conto se si è dalla parte giusta eccetera ma la cosa fondamentale poi è lo sviluppo dell'orecchio perché l'intenzione di ogni chitarrista di ogni musicista sta in ciò che lui suona attorno alle note e alla divisione ritmica in tutte quelle altre cose che stanno attorno rumorini intenzione piccoli ritardi quindi stare avanti stare indietro quello intrascrivibile ma anche perché tra l'altro questa non è una cosa che riguarda me o te ma riguarda tutti gli esseri umani ovviamente questi elementi di intenzione a volte sono ricercati voluti e razionalizzati da chi suona a volte sono talmente intenzionali e inconsci che fanno parte poi del background culturale per cui io stesso quando suono determinate cose tendo a suonarle in momenti diversi in modo differente a seconda di come anche vivo quel momento lì e quegli elementi che inserisco o tolgo fanno parte di quella dimensione ora da spiegare questa cosa sembra complicata ma in realtà è naturale è talmente empirica come situazione però ci teniamo a dire questo perché al di là delle nostre parti del nostro scritto non vi stupite se a volte comprate una partitura e poi scoprite che non è esattamente scritto ciò che viene suonato e ciò che voi sentite perché non può esserlo ci sono delle cose che sono intrascrivibili si trascrivono le note, la divisione ritmica ma poi magari quella divisione ritmica è più allargata sul tempo è più seduta sul tempo si chiama oppure si suona correndo leggermente perché si porta avanti oppure si tira indietro esatto quindi questo ci tenevo a precisarlo perché poi tra l'altro come vedete nel riff che suona Miki quando si sposta sul C7 in realtà tutti noi continuiamo a sentire questo basso che ritorna ma lui non lo suona eppure noi continuiamo a sentirlo questa è un po' la magia della pratica del suonare l'altra cosa ed è un po' quella conclusiva perché poi in realtà qui non è che c'è da spiegare questa cosa è che nel turnaround cioè nell'ultima battuta, la dodicesima battuta quando torniamo sul quinto grado sul C non utilizziamo più, non utilizzo più questa posizione vado a finire, faccio un passaggio cromatico appunto sulla corda del A per andare al C in questo modo e utilizzo la posizione del C7 in una forma ridotta perché non suono tutte le corde ma sono solo queste tre esatto dove praticamente sto suonando in questa posizione la fondamentale, la terza maggiore e la settima minore quindi semplicemente e questo chiude il chorus la struttura di questo studio, di questo brano viene ripetuta solo due volte e poi c'è il finale, ovviamente il finale, il famoso touche, è di nuovo sul primo grado perfetto perfetto, direi che abbiamo... riguardo al suono invece ecco riguardo al suono qui apro una parentesi perché nel libro c'è scritto che ho utilizzato un amplificatore di tipo inglese ed ho utilizzato nella registrazione del libro un Marshall in particolare ho usato la JVM la 410 il canale crunch vintage che praticamente è molto plexi ecco come tipo di suono qui ora sto usando un altro tipo di amplificatore non il Marshall, lo vediamo sempre all'inizio c'è sempre la spiegazione di tutto ciò che viene usato e addirittura alcuni settaggi esatto qua il tipo di saturazione del canale crunch deve essere una saturazione non eccessiva è un crunch proprio da blues è un blues aggressivo è un blues bello come si dice si può dire dai cazzuto un rock blues cioè infatti c'è anche nell'unità didattica rimando alla British Blues Revolution la contaminazione col rock no? ed è anche questa cosa nel suono perché poi addirittura i musicisti inglesi influenzano i musicisti blues americani in questa contaminazione e allora il sound deve essere un sound ottenuto con un amplificatore appunto con le con un sound tipo Marshall, un suono tipo Marshall, un canale crunch partendo da questo e arrivando a questa cosa qua no? quindi anche la grande tensione e il nervosismo della destra è obbligatoriamente dovuto non solo a elementi necessari per il groove ma anche per il timbro, per il suono perché se io non spingo non satura abbastanza esatto quindi per farlo saturare tanto esatto quindi anche in questo in questo podcast come è successo ne abbiamo già parlato nel primo podcast per la ritmica di Shining Blade è importante l'elemento dinamico del suono e il controllo dinamico del suono quindi imparare a ottenere il massimo concesso da quel suono esatto questa cosa è agevolata non solo dal livello di gain e il tipo di canale il tipo di amplificatore ma anche e soprattutto dalla configurazione dei pick up che scegliete di utilizzare perché se io avessi una chitarra come quella di Tony per avere quell'effetto bisogna sicuramente usare la forma splittata degli humbucker ma comunque l'humbucker ha un'uscita più tosta esatto in questo caso uso la quarta posizione cioè l'humbucker splittato esatto in ogni caso il segnale di uscita dell'humbucker anche se è splittato è più alta di quella di un single coil e quindi a parità di gain magari si ha un po' più di guadagno quindi uno aggiusta chiudendo un po' il volume oppure lo toglie dall'ampli in questo caso io utilizzo la quarta posizione e quindi il pick up centrale è quello al manico quindi se utilizzate una chitarra con l'humbucker si può fare benissimo una chitarra tipo Gibson se hai una chitarra come quella di Tony hai la quarta posizione quindi già hai i pick up splittati se uno ha una Gibson o un Les Paul, un SG vecchia maniera dove non puoi splittare perché adesso le fanno con gli split esatto allora bisogna utilizzare magari una posizione scegliere tra il compromesso tra il pick up al manico o addirittura il centrale e regolare i livelli, i volumi dei pick up in modo da ottenere un po' una timbrica che risponda molto alla dinamica di base comunque si parte da un suono in questo caso partiamo da un suono saturo che aggiustiamo col volume fino a ottenere la possibilità di ottenere un suono quasi clean spingendo poco e più saturo come vedete più saturo utilizzando invece l'energia fisica esatto io infatti non ho bisogno di chiudere il volume regolo il gain in modo che già questa cosa è di base e quindi cosa vado a fare vado automaticamente a dire se io suono col massimo a livello dinamico col massimo della forza della destra il suono è questo se suono piano il suono è quasi una cosa più funk è quasi clean non è clean si sente che è leggermente sporco il suono tra l'altro io personalmente consiglio a tutti di partire da un'idea di base di questo tipo come vedete entrambi ragioniamo per quanto riguarda il suono nello stesso modo il suono reale è questo perché io partiamo tutti e due da un suono reale di partenza cioè quello che esce dall'ampio è questo che poi viene attenuato col volume e con l'utilizzo della voce della chitarra che sta nei magneti esatto perché come vi ho detto i due single coil scaricano parecchio il segnale Tony infatti prima ha abbassato il selettore ha dato col pick up al ponte avete sentito un suono da heavy metal da hard rock io se faccio la stessa cosa idem uso il pick up al ponte e il suono è un suono da hard rock heavy metal non è un suono da blues eppure è sempre lo stesso suono questo è il principio un po' della mentalità delle old style come siamo noi chi suonava con le monocanali e doveva ottenere un clean un crunch un lead da un unico suono e lo facevi tutto con i pick up e il potenziale come vedete è possibile conoscendo bene il proprio strumento che è quello che noi invitiamo invitiamo a fare non c'è bisogno di cambiare necessariamente 100 chitarre o pigiare 2000 volte sul selettore per cambiare canali cose come vedete un suono abbiamo il clean esatto abbiamo i crunch quindi questo è il concetto che sta esatto dietro il suono che micchi ha utilizzato per rivier du de trois l'ultimissima cosa che voglio dire a chi già so che magari potrebbe commentare ovviamente ognuno è libero di fare come vuole e come crede perché non si deve mai dal mio punto di vista mettere in discussione non si devono mai mettere in discussione i mezzi piuttosto si discute sul risultato allora a questo proposito dico si può suonare blues con una brunetti e con una fender strata H&M col ponte floyd sì per me l'importante non è questo l'importante è ciò che produrrai con questi mezzi poi è normale che esistono degli strumenti più adatti più adatti perché quello che ti permettono è basta o quasi nel senso che vanno subito in quella direzione invece con altri mezzi devi adattarti e trovare però per adattarti è sufficiente conoscere il proprio il proprio strumento e il proprio amplificatore e quindi conoscere i propri mezzi se conosciamo i propri mezzi possiamo trarre il massimo risultato da essi poi normale che questo discorso che stiamo facendo riguarda un aspetto molto pratico pragmatico se invece poi usciamo da questo aspetto e andiamo a parlare in termini di status simbolo icone o quello che rappresentano nell'immaginario collettivo determinati strumenti e allora è tutto discutibile perché se uno pensa a una chitarra a 24 tasti col ponte floyd non pensa al mondo del blues se uno pensa a un amplificatore di nuova generazione high gain e cosa non pensa al mondo del blues assolutamente e questo sicuramente se io salgo su un palco vestito non so in giacca e cravatta a un motor ad uno e suono i brani degli Iron Maiden uno mi guarda e dice sì però perché sei vestito in giacca e cravatta perché intorno all'aspetto artistico musicale cosa c'è anche poi un aspetto scenico ecco questi discorsi riguardo la configurazione della chitarra il Floyd Rose il tipo di amplificatore cosa oltre all'aspetto pratico c'è anche l'aspetto scenico chi dà tanta importanza a questo può mettere in discussione questa chitarra il tipo di amplificatore ma chi se ne frega a proposito di questo facciamo una piccola anticipazione nel senso che fra i vari argomenti e i vari temi che tratteremo tratteremo anche quello del setup delle configurazioni dei suoni anticipiamo già che abbiamo intenzione di fare una puntatona pazzesca che che vedrà l'analogico contro il digitale ma ma magari no magari scopriamo che in fondo è analogico e digitale invece di contro vi faremo vedere come trattare entrambi gli aspetti assolutamente e come uno possa imitare l'altro e in particolare come configurare come configurare correttamente il digitale quanto sia importante conoscere prima l'analogico per poter però insomma questa era una piccola anticipazione che vi facciamo per quanto riguarda tutti gli argomenti che andremo a trattare sul nostro sul nostro canale va bene direi che abbiamo detto non solo tutto di più ti chiedo una cosa per chiudere rapida dritta al al sodo tre nomi per i ragazzi che vogliono ascoltare cose di questo tipo va bene allora ovviamente se voi andate su internet e cercate detroit blues storicamente i chitarristi della scena di detroit non hanno una connessione diretta con quello che ho suonato a livello storico a livello per come nasce quel mondo perché parliamo di bb king parliamo di albert king robert cray e quindi quello che io vi ho proposto è l'evoluzione la contaminazione del detroit blues poi infatti poi ci rimando anche in abito moderno alla british blues revolution e quindi al blues e al rock blues però io vi dico questi chitarristi che vi ho detto andatele a ascoltare perché c'è un mondo da imparare ma poi dei musicisti soprattutto della scena inglese che prendono quell'aspetto culturale lo filtro lo trasformano e poi a loro volta influenzano la scena la rimanda di rimando la scena americana quindi la scena americana poi che arriva successivamente negli anni 70 e 80 viene influenzata da questi chitarristi inglesi che assimilano il blues e lo trasformano lasciando in parte alcune cose legate alla tradizione quasi inalterate altre cose le rivoluzionano completamente quindi vi dico sicuramente che vabbè Rick Clapton e cos'è ma Rory Gallagher Rory Gallagher è un chitarrista irlandese mi pare dove questo tipo di sound addirittura influenza anche Siri Vogan e quindi andatevelo a ascoltare poi invece degli americani per esempio contaminati con rock e questo motor blues chiamiamolo così Johnny Winter che e poi ovviamente esatto bizzarrissimo chitarrista albino che però a partire dallo strumento a partire dallo strumento perché ecco è un genio ma è quello che abbiamo detto prima i puristi si può suonare con la 24 tasse del Ponte Floyd allora si può con la Flying V esatto si può suonare come si chiama quel modello che usava Johnny Winter non era Flying V era quella però voglio dire ecco perché queste citazioni per dimostrarvi che esatto ma per esempio mi pare che Albert King utilizzasse una Flying V quindi ma perché dobbiamo farci sti problemi va bene va bene ma non ce ne facciamo infatti infatti poi è bello il mondo perché ha variato va bene ragazzi allora ringraziamo Michi per questi approfondimenti su Rivière D'Ude Troie fateci pure scriveteci fateci domande tutto quello che volete saremo felici poi eventualmente dove necessario fare dei video di risposta e di approfondimento rispetto alle domande fatte noi ci vediamo alla prossima puntata settimana prossima settimana prossima stessa ora stesso canale un saluto a Michi Bianco e a Tony De Gruta anzi da da Michi Bianco e Tony De Gruta e ci vediamo alla quarta puntata dove parleremo della parte solista con delle cosine interessanti speriamo ciao ciao Ciao.